La scienziata turinese Rita Levi-Montalcini, senatrice a vita e premio Nobel per la medicina nel 1986, è stata commemorata in Consiglio regionale in apertura di seduta l'8 gennaio alla presenza della nipote Piera Levi-Montalcini. A conclusione del ricordo del presidente Valerio Cattaneo, l'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Colleghi consiglieri, è scomparsa il 30 dicembre scorso a Roma all'età di 103 anni la senatrice a vita professoressa Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina e figura altamente rappresentativa del mondo scientifico a livello internazionale. Nata a Torino il 22 aprile del 1909, si laurea presso la nostra università nel 1936, ma a causa delle leggi razziali nel 1938 è costretta ad emigrare in Belgio per poter proseguire le sue ricerche in neurobiologia e in psichiatria. Per oltre 30 anni, sino al 1977, ha ricoperto incarichi prestigiosi, realizzando esperimenti fondamentali che la condussero alla scoperta del fattore di crescita nervoso e del suo meccanismo di azione, scoperta per la quale nel 1986 ha ricevuto il premio Nobel per la medicina. Insignita di medaglia d'oro ai benemeriti della scienza e la cultura e della medaglia d'oro ai benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte, il primo agosto del 2001 è stata nominata dal Presidente della Repubblica, Carlo Azzedio Ciampi, senatrice a vita. Ai familiari, in particolare alla nipote Piera, che ringrazio per la sua presenza, desidero rinnovare a nome dell'Assemblea regionale le più sentite condoglianze e i sensi della nostra solidarietà e vicinanza. Invito i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria della senatrice Rita Leve Montalcini.